Allora, signori, questo è un video denuncia rispetto a quello che ci è appena successo. Siamo in un locale di Messina, meglio non dire quale, sui Monti, e si mangiano pidoni, ma non diciamo quale, e ci siamo imbattuti in una discussione molto simpatica con un pizzo del luogo, il quale, dopo essersi acceso tre sigarette di fila, quella dietro l'altra, ci guarda sbavare le nostre belle sigarette elettroniche e ci dice, ma voi lo sapete che queste fanno ancora più male delle sigarette? E noi, pasti, no, in realtà fanno 96 volte meno male. E lui, no, no, un muratore che lavorava con me, tutte le volte che fumava, si doveva fermare, si doveva fare il liquido, e si sentiva male, quindi, sì, secondo me è meglio fumare le sigarette normali, oppure, smetto punta e basta. E poi tutto il vapore, che puzza la vaniglia, che schifo! Cioè, vuoi mettere la puzza della vaniglia o la puzza della ciliegia, con lo splendido odore della sigaretta? Carta bruciata! Quindi, signori, stop al bigottismo, per favore informatevi, nasparate cazzate, e soprattutto non difendete a spada tratta una presunta ragione che non avete, ok? Fatevi questo favore e soprattutto fatelo agli altri. Soprattutto, potete dire, i costi, quando vi dicono che è così. Ciao ragazzi!